Gosens, Biol o Rachmani? Onestamente il primo potrebbe non giocare, il secondo classico uomo da mod, ma occhio a sottovalutare il terzo col Napoli che chissà come approccerà a San Siro, come ha fatto con la Juve da 0-0, prese 7 lì. Per questi dubbi sarò in live nella piattaforma viola, oggi pomeriggio per le ultime due ore prima dell'inizio della giornata, turno in fase settimanale che odio, perché io ormai sono abituato a vederle una alla volta, ho l'ansia di avere una partita insieme a un'altra, già mentre la Juve ci sarà l'Atalanta, ne usciamo pazzi, se Dio vuole è l'unico in Serie A, un tempo ce n'erano molti di più, via. La sensazione è che se magari hai vinto due giorni fa non ce la fai a vincere tre volte su tre al Fanta, marcatori e risultati strani. Proviamo con mille mi piace a riportare questa serie ogni settimana, io ci provo a darvi una mano e infatti andiamo direttamente qui dove una mano ve la possiamo dare anche noi, non solo io ma tutti questi meravigliosi Fanta Creator che possono essere sicuramente i più bravi di me, dovete semplicemente scaricarvi Fanta Lab nel primo link in descrizione, un'applicazione gratuita che ha delle occasioni con il premium per avere altre funzioni che potete sbloccare, codice scontuario per avere un codice, per avere uno sconto di due euro sull'abbonamento annuale, Carmi Special, Il Profeta, Cantarini e tanti altri, importate la vostra liga con il nome della vostra rosa che apparirà in automatico e chiedete il consiglio che vi possono insomma rispondere quando poi vedrete gli affarini verdi che saranno online tutti questi grandi ragazzi. Oppure c'è Fanta Lab che sta diventando una droga eh, dico la verità, scorso turno ho battuto Giuse 360, terza medaglia cosa vuol dire? Vuol dire che posso sbloccare la sede di livello 1 e che vuol dire la sede di livello 1? Ve lo faccio semplicemente vedere, vai su strutture, vai su sede e puoi sbloccare con 10 crediti un qualcosa che ti dà quando vinci un moltiplicatore dei punti ranking pari a 1.1. Stessa cosa che puoi fare migliorando lo stadio, puoi migliorare le giovanili quando vai a comprare il Nico Pazze e c'hai un po' di sconto sopra, quindi piccolo vantaggio in classifica c'è gente che sovra di me, siamo tipo in 60, sono il 23esimo, non miro a vincere perché prendo solo i giocatori dei miei avversari al fantagalcio. Però, attenzione alla lunga, non mi dispiacerebbe superare Luca Toselli, no no Luca, gli vogliamo bene, andiamo qui. Cagliari-Bologna, attenzione che il Bologna potrebbe risultare sì fresco ma guarda un po' le ultime partite, le ha pareggiate tutte e allora perché non pareggiare anche questa? Lo so, vorresti già mettere Ferguson, abbi pazienza, arriva da un crociato convocabile ma non titolare dal primo. La prossima è Bologna-Lecce, probabilmente lì sarà più appetitoso, succulente, il Cagliari viene dalla vittoria in casa contro il Torino dove ha un rendimento leggermente migliore, diciamo che ha perso anche con l'Empoli in casa, il Bologna il godo può fare ma lo può anche subire, quindi Castro e Piccoli sono i nomi miei consigliati, Lucumia-Ugello per le difese, uno che marca Orsolini, l'altro che marca Piccoli, li sconsigliamo, scommesse dalla panchina o titolari Fabiano-Gaetano, lo possiamo sapere perché è la prima gara di giornata. Lecce-Verona invece, per me, uno a uno ma mi bazzica l'idea di poter pensare che forse tra Bologna e Lecce, c'è quella possibilità in più di vedere una delle due favorite o vittoriose. Diciamo che il Verona avrà un calendario da qui in poi terrificante, quindi magari il punto lo potrebbe trovare. Il Lecce viene da questi risultati negativi, diciamo che il pareggio farebbe bene a fare un attimino risalire le classifiche di entrambe, però siccome si prevedono gol da entrambe le parti, perché Lecce anche statisticamente deve ritornare a farlo, guarda quanti segni zero, cioè non può fare la sua quarta partita, anzi quinta partita consecutiva senza segnare, Crestovic se lo avete contro cominciate a preoccuparvi, ma si può rischiare secondo me anche un Rebic. Gaspare, il nome per il vostro modificatore, Suslov perché comunque il Verona deve anche trovare in lui, più che in Moschera secondo me, che parte con un po' di ballottaggio con Sar, che ha trovato quel gol, Lazovic, le certezze di questa squadra, che sono quelle che alla fine, come avete visto, Monza-Venezia non c'è tanta possibilità di dare continuità ai propri risultati, quella che ha vinto il turno prima difficilmente bisse al turno dopo, infatti il Venezia ha fermato il Monza, ma seppur giocando in casa. Milan-Napoli, pioggia di gol, pioggia di non gol, ci manteniamo cauti su 1-1, ma sai che la puzza di 0-0 è alta, la sensazione è che il Napoli non la perda questa partita, il primo percorso, il primo incontro con una grande dopo quello con la Juventus. Sarà un altro pareggio? Diciamo che il Milan non ha te, Fernandez e Reinders, e quindi la posizione di Pulisic sarà da studiare, c'è quella di Loftus da centrale, con Chukwez e Largo, che secondo me in questo momento è in forma, e si può schierare, sconsiglio Royal dalla parte di Kvara, sconsiglio Chao a marcare Lukaku, consiglio Kvara proprio per questo fattore, Gilmour no, Rachmani scommessa, perché comunque per chi ha il modificatore di difesa, sì, ci sono nomi migliori questo turno, però si può sempre tenere in considerazione il fatto che Juve-Napoli e Rachmani prese 7 per l'appunto, e Zambo fisicamente importante, devastante, e potrebbe anche dire la sua secondo me qui. Gilmour forse un altro turno. Empoli-Inter, vedo proprio un Inter che deve rimettere a posto la difesa, anche se l'aveva già fatto con Roma e Young Boys, l'Empoli è una squadra che concede veramente poco, bisogna trovare il gol anche cercando di sfruttare in ampiezza il campo, dove l'Empoli però è molto forte, molto attento a non subire, ha avuto quei 5 minuti di sbandamento col Parma preoccupante, l'Inter sicuramente queste caratteristiche gliele potrà evidenziare un pochino di più, un Di Marco che ha solo come copertura Buchanan, con Carlos Augusto che lo poteva sostituire in questo momento, ma no con la prossima che sarà Inter-Venezia, forse lì da turnover per la Inter-Arsenal, devastante, importante, per la Champions League, ecco che allora, scommessa, perché ho messo scommessa Turam, oddio, forse ho sbagliato, scommessa Zilinski, non manco a dirlo, Turam non ha neanche senso metterlo tra questi nomi, piuttosto ci metto frattesi, che alla fine turnover non turnover, è partito dalla panchina con la Juve, gli insenimenti forse contro l'Empoli possono essere la chiave, e poi bastoni, magari l'Inter, appunto, rimettendo a posto la sua difesa, qui sempre con un cross, con un'occasione, con quello che rompe un po' l'equilibrio, si può mettere Colombo, l'uomo dell'Empoli, che comunque calciando i rigori, perché no, il modificatore, con più rischi rispetto a Rachmani, potete valutare voi se metterli o meno. Venezia-Udinese, Udinese ha tanti punti in classifica, però non la perde, forse pareggia, cioè, l'Udinese con quella tripla barriera attorno a Ocoglie, Biol a volte non fa neanche molto per meritarsi voti alti, vediamo se sarà la stessa partita quella col Cagliari, ci sarà sicuramente un tentativo del Venezia di fare qualcosina di più, infatti Oristanio lo consiglio, potrebbe, magari dal lato di Camara, dal lato di Cavasele, semmai, dal lato di Ture, poter provare a fare qualcosa. Giannetti in ballottaggio in difesa, Tuven dalla panchina, provate a metterlo, perché comunque sì, però si messa l'Udinese-Juventus, Atalanta-Udinese, si deve provare, Camara da quella parte spinge, ci sarà uno scontro, credo, con Aps, ma quello dell'Udinese piace, mi piace abbastanza, e quindi sì, questa può essere secondo me la lettura migliore per un Udinese che anche il pareggio non lo trova quasi mai, quindi perché non trovarlo? Il Venezia magari con una piccola somma di pareggi qualcosina può cercare di portare a casa qualche punticino. Atalanta-Monza, non prevede un massacro, non prevede un massacro lo stesso di Atalanta-Verona, Atalanta-Verona, lo sappiamo che il Verona in questo momento non attraversa un momento incredibile, non è neanche una delle migliori difese del Camara, forse è la peggiore. Qua vedo un numero leggermente diverso, alla lunga verranno fuori le individualità di Lukman contro Izzo, quella di De Ketteler contro Carboni, ma dobbiamo anche valutare un attimino il fatto che la prossima è Napoli-Atalanta, qui le taglie lo danno titolare, De Ketteler ha giocato tutta contro il Monza, piccole possibilità di turnover, a me piacciono le scommesse dell'Atalanta, dove comunque bisogna provare a mettere anche lo Zappagosta che apparentemente riposa, il quadrato che magari, in caso di partita che si può indirizzare su un buon binario, può servire per rifiatare, Samarzic, Pasalic, ovviamente questi nomi. Ho messo Ruggeri e comunque anche la semplice combinazione, cross di Ruggeri, stacco di testa, ci serve, è bella nuova, ovviamente è l'occasione migliore per andare a chiamare e a prenderlo in un turno del genere. Juve-Parma c'è con Mainers, c'è con Mainers si schiera, si schiera con copertura, ovviamente non se lo avete in più casi, questo discorso del ballottaggio, non prenderei questo rischio, anche se è appetiteoso, appetitevole Juventus-Parma da schierare con Mainers, è normale che con una panchina così, ancora con il dato aggiornato di Comainers, molto all'osso, devi andare a schierarlo e quindi ci può stare anche il fatto che abbia quel minutaggio. Blaovic, consigliato anche abbastanza parale, ma McKennie forse è quello più interessante. Somme, Baloghi, il marcatore e il centrocampista in mezzo, ma nel nome che voglio andare a prendere del Parma, dal lato di Cambiato, dal lato di un Caval che ne ha giocate veramente tante, magari, sai, concedendo un pochino di più Cambiato da quel lato, con Savona che potrebbe tornare a titolare, qualche palino rosso per quelli che non sono le testate giornalisti che non riportano a titolare, vediamo un po'. Gatti è sempre un fattore, quello che alla lunga manca. La Juve è il colpo di testa, che sai, magari il Parma gli ho poi segnato in tanti modi il gol, ultimamente ne hanno subiti solo due nelle ultime tre, quindi attenzione a pensare che il Parma sia diventato una roba così, vediamo se forse alla lunga devono capire che il Parma forse è una squadra che per segnare deve comunque sbilanciarsi di più, però abbiamo visto in Parma Cagliari, per il Parma sarà un'annata un pochino così, da comprendere. Genoa-Fiorentina, Deghea, perché c'è, dici, il mondo della Fiorentina stanno in... Deghea, cioè Deghea non sbagli, Deghea non sbagli, modificatore, sei portieri, che magari addirittura ti sei arrivato a prendere Deghea da secondo slot davanti al primo, io Deghea lo preferisco a... per Indy Gregorio sto turno, Deghea lo preferisco a... ti arrivo a dire una follia? No, Meret, ovviamente quello del Milan lo preferisco a... quello della Roma, quello del Torino, eh, quello della Lazio, quello del Com, ovviamente senza altro, comunque nel dubbio. Voi schieratelo, Gosens, piccola possibilità di riposare, ed ecco che allora, sfruttando l'età un pochino avanzata alla gestione degli infortuni, Biraghi al suo posto, e Martinez quarta, occasione per svettare quel gol che è arrivato sempre lo scorso anno, per l'infortunio di Comuzzo. Sconsigliato vogliacco su Ken, Sabelli da quel lato lì, Ken, se può lasciare fuori, non è scommessa Beltran, perché comunque i rigori alla fine, li tira lui. Como Lazio, alla fine, è l'unica squadra, è l'unica partita dove mi aspetto anche il gol numero tre, dove può arrivare sicuramente anche dalla parte dell'Atalanta, 3-1, 2-1, ok, però qui è innegabile il fatto che sì, il Como alla fine, forse è una squadra un pochino sopravvautata per quanto riguarda la produzione offensiva, tengono tanto il pallone, ma col Torino, come hanno fatto a non trovarlo, lo sanno soltanto gli dai dell'Olimpo, Audario e Provedel non si mettono a questo turno, ovviamente se avete alternative peggiori dovrete andare con l'umino in mano, con la speranza che se avete il modificatore ci sia una parata, oltre a quei gol subiti, quasi impossibile pensare a un Cliciti in questa partita, i Zaxen, Castellanos, Bulagli e DIA, tanti nomi, Zaccani dovrebbe recuperare, Nico Paz, è l'uomo da cui alla fine passa tutto quanto, anche la responsabilità di fare quella cosa, quella giocata, quel rischio, strefezza dal lato di Luno Tavares, forse è quello che ci metterei un pochino più di dubbi, 7.7, io calerei leggermente a 7.0, rimane comunque molto buono, perché la partita promette quella roba lì, Lazio ha fatto un clean sheet, appunto, 2 di fila, dubito, e chiudiamo con Roma Torino, col fatto che De Rossi dicono che potrebbe essere prossimo al nuovo cambio, allora secondo me Juric ce la lascia proprio così, come è stato creato e partorito, ma sai che me puzza anche di 0 a 0 sta partita, cioè il Torino ha fatto quella partita con il Como, trovando la vittoria solo grazie a Milinkovic Savic, che comunque va schierato, non mi aspetto una Roma che vada, che segni, infatti ho messo solo Dovbic, perché comunque Cocu, Marivan, qualche amnesia ce l'hanno sempre avuta, Valuchievic sconsigliato, altri non mi faccio veramente fatica, qui andrei con le pinze, mettete i propri top, ma Pellegrini, Mertomine vado sempre dallo scozzese, oppure Mancini che ha mezzo litigato con Martina Squarta, vado dal secondo, anche se comunque penso che non avrete tutte queste possibilità, questo turno, magari avete qualche rotto e sarete obbligati a schierarlo Mancini, sperando che non sia la volta di Hummels, oppure se è la volta di Hummels, anche lì, dateci cauti, niente ragazzi, questa è la mia idea, questa è la mia schedina, dove lo scorso turno abbiamo preso il 5 su 9, in realtà azzeccando di Inter Juve solo l'1x, azzeccando di Fiorentina Roma, niente, perché comunque ora il 5 a 1 era tosta, ma proprio anche il segno cannato un pieno, pensavo una roba diversa, non abbiamo preso nemmeno poi il Multigol 2-4 di Napoli-Lecce, che invece mi aspettavo e non è arrivato, Torino, Como, si Udinese-Cagliari, no, ma aspettavo invece che l'Udinese non arrivasse a quella vita, e non migliorasse la sua classifica, vediamo, vediamo se allora di compensazione arriverà il Venezia, che stavolta metterà il musetto davanti, ragazzi, mille mi piace, ci rivediamo credo sabato, perché poi proverò a portarvi venerdì il video dell'episodio del Fantacalcio, con tutti i miei risultati, ovviamente non quello del turno precedente, perché noi siamo sadi, ci aspettiamo Bologna-Milan a febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, non si sa, boh, nel dubbio, buona fortuna a tutti voi ragazzi, e mi raccomando, formazioni, 18 e 30, go sense be all'arcmani, nei commenti non mi hai ancora risposto e non va bene, tu vai nei commenti, mettici anche il tuo dubbio, che risponderò a 5 di voi, 5 di voi, poi gli altri rispondono in live, ci sarà anche mio papà, quindi li facciamo divertire, a modo nostro, meno male che mio papà è stato presente, perché io tendo a non consigliare la Juve, l'Inter Juve senza di lui, molti ildizio e consensato sarebbero rimasti in panchina, invece con lui, eh, anche UEA, qualcuno l'abbiamo fatto mettere, le perle, bella.